Matteo Vecchi, allora è stato posto un problema, ormai sono trascorsi quasi due anni, sulla Biblioteca Comunale, il suo utilizzo. Che cosa è accaduto? Sono state fatte più e più istanze, tant'è che entriamo praticamente nei due anni e mezzo, in questo periodo, da quando abbiamo fatto la nostra prima raccolta firme, che ha raccolto un totale di 400-450 firme, per riaprire la Biblioteca di Civitavecchia. Attualmente la Biblioteca di Civitavecchia consente soltanto l'acquisizione dei libri, il prestito, ma non la consultazione presso le aule studio, che è sostanzialmente la linfavidata delle Biblioteche. Appunto, due stati fa ci siamo regati dal Sindaco, allora la raccolta firme era stata fatta dai GD insieme ad un'altra associazione, presentammo la richiesta di riapertura, il Sindaco ci rispose che di lì a poco sarebbero partiti i concorsi e che la Biblioteca sarebbe stata riaperta nel giro di breve. Nel frattempo, come giovani democratici, abbiamo concesso gli spazi della nostra sezione, quando c'era il Covid, attraverso prenotazione digitale, per appunto offrire il servizio da aule studio che si dà per scontato in una cittadina come Civitavecchia, che invece appunto non c'era. Qualche mese fa abbiamo provato a rinterloquire col Sindaco sulla vicenda, stavolta in via ancora più ufficiosa, passando per il Consiglio Comunale tramite il gruppo consigliare del PD, il quale ha presentato un'interrogazione urgente da sottoporre al Sindaco. Il Sindaco ha risposto dopo circa un mese, contraddicendosi decisamente, perché apre il comunicato di risposta dicendoci che il personale potrà essere assunto, parliamo di quattro unità di personale, sembra 200 persone, il personale sarebbe stato reintegrato attraverso concorsi già fatti. Salvo poi dire che non dovessero rientrare nei concorsi già fatti, allora avrebbe provveduto a dare un appalto esterno, che per quattro collaboratori della biblioteca cittadina, che dovrebbe essere un servizio pubblico, mi sembra un po' forse eccessivo, giustificando il tutto, tutti questi ritardi, dicendo che tutto sommato la biblioteca ha operato in questo periodo attraverso il prestito dei libri, meno male ci verrebbe da dire, e i giovedì dell'archeologia, che per i più piccoli, che per quanto siano un'iniziativa lodevole, perché qualsiasi cosa avvicini i giovani alle biblioteche, è da sottolineare e anzi da evidenziare e valorizzare, non risponde in concreto alla nostra richiesta di riaprire le aule studio, che sono il luogo dove i giovani si vanno a studiare, ma si confrontano e arricchiscono anche quella che è la preparazione, un esame, un'amicizia, una relazione. E quindi, ecco, rimanere così, con questa risposta, che sostanzialmente dice tutto e non dice niente, perché subappaltiamo i privati, secondo me ci sarebbe da parlarne in un consiglio comunale apposito, non in un comunicato di risposta, in una interrogazione. Dici che i concorsi sono stati fatti e vai a assumere da lì, salvo poi dire all'inizio che i concorsi sono stati annullati e che in questo momento non si possono fare. Allora, la domanda che noi ci poniamo è, dopo due anni e mezzo e mirabolanti promesse, quando riapre l'aula, la biblioteca di Civitavecchia, quando noi studenti di università, delle scuole superiori e anche delle medie, almeno parlo per me, ricordo che la frequentavo anche allora, quando potremo finalmente tornare in aula studio?